Con quello che è un po' il leader del Moretta, vincitore del campionato di promozione, Rikki Tommaso Bailatti. Allora Rikki, è un grande trionfo, il trionfo soprattutto di un gruppo coriaceo che fino all'ultimo ci ha creduto e siete riusciti ad avere la meglio di una squadra forte come Revello. Guarda, hai detto diciamo la maggior parte delle cose, è vero, c'erano dei gruppi secondo me sulla carta molto più attrezzati di noi. La cosa che ha fatto differenza è il gruppo, noi più che una squadra di calcio sembriamo una famiglia e quando andiamo in campo diamo l'anima l'uno per l'altro. Tutto ciò ha fatto modo che il Moretta oggi vincesse questo campionato, meritato anche secondo me. Senti, tu sei abituato anche a palcoscenici più alti, però quali emozioni si provano anche se si è giocato ad alti livelli nel vincere un campionato di promozione di questo tipo? Guarda, io ho avuto la fortuna di, anche essere un ragazzino, vincere due campionati di Serie B. Oggi ho vinto un campionato di promozione, ti posso assicurare che la gioia è uguale perché quando vinci è sempre bella, la bevo dopo, quando vinci un campionato è sempre bella. Può essere in terza categoria, può essere la gioia, nel festeggiare con i compagni e con le famiglie è la cosa più bella che c'è. Il prossimo anno c'è voglia di fare l'eccellenza, resterai qui? Io il prossimo anno voglio divertirmi e fare calcio. Qui, ripeto, ho trovato una famiglia, ma adesso aspetto la famiglia che mi chiami. Un'ultima battuta, Cellerino, quanto è contato per questa vittoria? Il mister è fondamentale per noi, anche perché lui ha avuto la bravura l'anno scorso di arrivare qua prima di me, io sono arrivato a dicembre, e di creare un gruppo vero, una famiglia vera, e dei ragazzi che danno l'uno, tutti il massimo per l'altro. Quindi lui ha una grossa fetta del merito. Grazie. Grazie a te.